perennemente 20 di abili test in più se giochi con i però la build è un'altra no 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 non è la build allora stiamo stiamo cercando di imitare a build di sloppy walrus questo tp gragas che ha una build un po' particolare mettiamola così qua penso sia rilevante lo starting item tanto poi lo vendiamo e niente ragazzi eccoci qua la build e questo pick viene chiamato impregnator gragas che è il gragas che mette incinto e niente abbiamo già fatto 25 gold ragazzi un inizio la build di questo gragas è abominevole può essere giocata solo support quindi preparatevi si inizierà con lo shurelia dopodichè andremo di cosmic drive e questi sono gli unici due oggetti normali che vedrete su questo campione il resto è full ad preparatevi oltretutto ma il problema di farlo con i tomi è che i tomi dovrebbe giocare yumi cioè dovrebbe farmare perché ho bisogno dell'oggetto da support perché tu devi fare questo oggetto qua fa così schifo che non lo trovo nemmeno e puoi farlo soltanto se sei support se hai completato la quest support vabbè niente non riuscirò mai a procreare il first strike contro xiaia e dio bono velkoz hanno un range come il pisello di rocco si freddi quando mai riuscirò ad attivare il first strike contro questi vabbè non importa anche solta non ho proccato il first strike vabbè c'è niente da fare ragazzi il first strike non può funzionare ok mi sono preso Shurelia allora dovremmo buildare lo Shurelia first strike prima volta metta e dicevo Shurelia poi mi devo buildare il aspetta come si chiama il cosmic drive e poi il resto è full add la build con Shojin Shojin, Black Cleaver le robe lì io non so che questi stanno lontani un chilometro quando ci outrange no first strike eeeh first blood è contro noi molto male molto male come a punto da andare così male questa c'è ancora le summoner oltre vabbè ciao casuola un buon relax se così si può chiamare eeeh ok 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 allora Shurelia ovviamente non comprerò un cazzo niente contro niente di niente cioè non abbiamo tempo già le pozze sono state 100 gold sprecati potrò pensarci meglio in 3 game su 3 c'è range top mamma mia perché ma poi veigar ma poi dei range top che nemmeno dici Queen e Teemo i merdinger no no Ash top Swain top eeeh veigar top cioè gare un po' il fenomeno pure lui complimenti what the fuck what the fuck cosa preve ma che cazzo perché lo chiedi a noi bro che te dobbiamo dire niente first strike ho capito mi sono già reso la tempo a usare il first strike in sta lane questa si sta camminando in faccia oh scusate ragazzi era ecco vedi mi sono pure grattato e ho la focaccia che ho fatto oggi mi fa un po' questo effetto è lievito è lievito è la madonna quante guarda non te l'ho mica rubato ma è che vuoi stavo doggiando questi giocano un chilometro di distanza prendo questo scusate perché xiaia ha due kill mi sono perso qualcosa che pazienza ricetta è la focaccia devo impararla perché in realtà non l'ho fatta io ho guardato la mia ragazza intera faceva per impararla e la prossima volta la farò io cioè lei ha fatto l'impasto poi ci ho pensato io a condirla a cuocere eccetera però devo ancora farla da zero io ecco diciamo che ho fatto la seconda metà grazie pampa la fuega grazie il sub molto gentile è stato un po' sfortunati qua 3-1 ok ok shut down madonna orribile oh raga ma perché sono così forti nemici ma che lo siamo pazzesco pazzesco oh ho appeso il 3-3 purtroppo vabbè è bene un po' scarsa sì ok c'è la control no in realtà era buono però non c'è mana ok doppio shutdown c'è un po' di plate da prendere qua mi servono soldi per la build oh fatto soldi plate mia e non di vein ok allora vedete feric feric ma non ci vogliono le scarpe eh ma io non so se arriverò a full build ragazzi quindi intanto cerco di farla più divertente possibile poi vediamo poi vediamo solo che già sto game lo vedo un po' tragico ecco 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 Ottimo Abbiamo anche rubato i due Perfetto ragazzi Perfetto Perfetto No nemici Non tiltate perfavore Non tiltate che dobbiamo arrivare In late game per la build Grazie che ci sei rientrata Ok Allora fammi vedere un attimo Ok Fammi vedere un attimo Allora questo Ok devo finire la super quest A brevissimo la finisco Stanno a un chilometro di distanza Peccato Non l'avevo visto Shit Non l'avevo proprio visto ragazzi Quel call Vabbè pace Sarà più sole o no Killiamo alla fine Minchia qua 700 gold ho dato Me l'ho così fidato Non mi sembrava Vabbè Vabbè 98 di abilità Nel frattempo Oh 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 Sto game è troppo movimentato Ragazzi Non ci arriviamo in late Lo sapete Quando i game sono così Tanto movimentati È una cacciare incredibile Non va bene Ok Ok ho cercato di rubare le kill Il più possibile Porco e sigo amiche Non so cosa voglio dire Di socio Porche Magino sì Non porche Oddio santo Io sto ci metto 60 anni a farne No dai ragazzi Ha fatto tutta stabilitesta Non ci metto troppissimo Porca troia Non era forte quello Ah però Un po' too much C'è questo TP Quanto l'ha tolto Ok che è indietro Venma Non Ho visto un flash Ma sta succedendo in sto game Perché sono tutti bot Cosa sta succedendo qui Perché Perché Aspetta faccio così va No bene che poi tilti Eh vabbè And Ben chiede disperato Aiuto Aiutate la bot Bene poverina Chiede disperato aiuto Per la bot Nooo L'assist Vabbè Vai compran la Vigilant Wardstone È dell'area A me ne frega un cazzo Via 136 D'abili test Dai Raga Dai Sono tutti pazzi Comunque Quelli del team avversario Avete visto Ci sono stati Mezz'ora in bot E non si sa Per quale motivo Io rubo ragazzi Perché non so cosa fare 5 gold Li prendo volentieri Ok An enemy Has been slain Beh inizia ad essere Già tante spanzate Ci avete fatto caso Iniziano già ad essere Buona quantità di spanzate Gesù vorrei rubare Posso? A posto Allora adesso mi servono Gli ultimi due oggetti Facciamo gli ultimi due oggetti Canonici Poi posso Se riesco anche Vendermi Le scarpe Però insomma Secondo me il game Finisce prima Mai dire mai Ovviamente Però ma Io vorrei farmare Cioè perché questo accanimento Ai miei confronti Vabbè Cazzo sto iniziando a prendere le tasse Allora adesso ci servono due oggetti ragazzi Shogin E black liver Iniziamo Il fast 3 quanto ho fruttato? Beh 4.40 Pensavo peggio Perché in lane L'ho procato pochissimo Se esco Soldi 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 Ok Se rubo anche il red buff tanto Cazzo mi frega il mio jungle È un fiddlestick morto Ho sbagliato spell Ok back No back niente Tanto non compro un cazzo C'ho 400 gold Ok c'ho un tp mid Boh Allora non devo esagerare Perché rischi di finire il game Come ben sapete Ah la torre sono tanti soldi Sapete? Sono 600 gold Sì Tanta tanta roba Ok Sì sì arriviamo Mamma quanti ping Eh Din din dun Din din dun Ok Ok Ottimo Non sto prendendo più soldi ai minion ormai ma sti cazzi Tanto Ciao refractory Allora shojin 4 secondi e 36 È tanta tanta roba Ci serve l'ultimo oggetto Che è la black liver Peccato per i draghi che non abbiamo avuto quell'ability haste Questo è un po' un peccato Che succede ragazzi? Ah Oh Qualcuno è morto Da qualche parte No La mia kill Vabbè Continua un po' a farmare ragazzi È che non sono molto veloce a farmare con sta build di merda Questo è il problema Cioè le spanzate sono già tante Bello bello Però oggettivo Oggettivamente sono un po' debole con sta build Beh l'oggetto a support lo vendo quando Lo vendo dopo Perché comunque mi dà 3 gold ogni 10 minuti Quindi mi aiuto Cioè ogni 10 secondi Dunque Gli ero bottà la giungla Questo non si fa domande È tutto normale Il support mi sta robando tutta la giungla Beh Già così non è male Mi dirò Ok Già che l'avete rivelato rispetto a support Tutto normale Comunque ormai con quello che sto farmando Effettivamente se vende il soggetto a support Sarebbe anche meglio Masticarsi Quanto mi serve ancora Black Cleaver Ancora Eh l'oggetto a support Che lo vende a pochissimo Il problema è quello Devo farmare la giungla Questi cosi qua Cioè se avessi venuto prima aveva senso Ormai Sti cazze 23 gol del carretto Ma data Non ci fare caso Fiddlestick Non ci fare caso Fiddlestick Non si fa rubare Non si fa derubare Vabbè comunque ci siamo adesso Poi allora L'ideale sarebbe Vendere le scarpe Per prendere Un altro oggetto Tipo La chainsword Perché mi dà Più ability haste Mi dà Più ad Quindi più ability haste Impregnato Ma lo conoscono tutti Guardalo Vuoi giocare Take my jungle Eh Questo Fiddlestick Verrà onorato Medaglia d'onore Per Fiddlestick E il fatto che lo conosca Mi fa ridere Mi spezza sta cosa Il fatto che lo conosca Mi spezza ragazzi Allora Non devi fare No 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 Per questo mi dà Più ability haste 20 più altri 20 L'ideale sarebbe Prendere il chainsword Adesso Che dà 25 di addio E anche 55 di Cioè 25 ability haste E 55 da Perché si chiama Impregnator Gragas È perché Il Gragas Che mette incinta Capito Perché Pregnanti Impregnator È Gragas Che mette incinta Non lo so M di Di Slop Ma questi Chiudono Ragazzi Non va bene No 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 Don't end Please No ma che baron Non serve a niente Prendete questo Ma che baron Se giocheremo Ganar Asidun Diaduro E tra Ah Ok Capito Vabbè Dai Se lo mettete così Posso capire E via Un attimo Non va bene C'è troppa gente Qua Troppa gente E questi Girano sempre in due Se girano in due Non riesco C'è Olitto Entrambi No Ha Ha Eh, che cazzo Ok, ora è proprio finale finalissima ragazzi, c'ho l'ultimo oggetto Ora ci abbiamo 3 secondi e 69 Poi blue buff che ci dà 20 se non sbaglio Però dobbiamo beccare un tizio isolato, solo che hanno spaccato tutta la base questi, quindi sarà difficile Ok, abbiamo 238 d'ability haste, vediamo un po' il granchio che dice Ci siamo ragazzi, ci siamo Ci siamo, purtroppo non abbiamo avuto draghi e non abbiamo Yumi con la staff Ci siamo un po' sfortunati ma ce la faccio andare bene No, mi ha silenziato Mi ha silenziato Garen ragazzi Maledetto, fosse stato un altro champion Ma di resiste non danno ability haste Però può spendere quello della D, mi dà più AD Però Purtroppo non danno ability haste Eh, Garen mi fa danni astunato e poi mi silenzia Infatti mi ha counterato pesantemente ragazzi Noct e Red insieme Sì, Vaxelina, quando c'ero io Toplane, dai Eh, purtroppo il mio team, c'è Vigar 16-3, cazzo Se non lo killano quello uccide qualsiasi cosa e si trovi davanti Eh vabbè, anche uso Dai, qualche clip l'abbiamo fatta ragazzi, ci sta È carino, è carino, è divertente, è divertente Sende scioglie per la maschera Eh ma non ci guadagni niente, ti danno lo stesso ability haste Honor of Fiddlestick ragazzi, se lo merita Conosce Impregnator Gragas Chissà è scondito, gli stimi so fucking bad homage Legendary LOL Non c'èzza Di Puol Di Enizio Per Mi W